Un saluto a tutti e benvenuti in questo primo video del nuovo anno del 2021. Quindi anzitutto appunto un saluto e un buon anno, veramente ne abbiamo bisogno a tutti. In questo video affronteremo il tema degli orologi ibridi e lo faremo con, spero, la radicalità e l'accuratezza che cerco di perseguire con questi video. Quindi partiremo dall'inizio. Anzitutto un orologio ibrido, un orologio elettromeccanico, come lo potremmo definire? Io uso una mia definizione, che non è quella esattamente accademica, tra virgolette, ma che secondo me è più chiara ed è più utile ai nostri fini. Un orologio elettromeccanico, un orologio ibrido, è un orologio che utilizza una importante componente meccanica, ma il cui organo regolatore viene influenzato o addirittura fatto funzionare in maniera diversa, o addirittura viene sostituito da sistemi che utilizzano l'elettricità o l'elettronica. Naturalmente, qui parliamo, questa storia risale ai tempi dell'era d'oro dell'orologeria da polso. L'elettricità era sempre più usata e si cercava la precisione, perché l'orologio doveva indicare anzitutto l'ora e c'erano anche degli usi militari che richiedevano una maggiore precisione dopo la Seconda Guerra Mondiale rispetto agli orologi meccanici puri. Nel 1952 abbiamo una prima piccola tappa. La Elgin e la Lippe, la Lippe era una grande azienda francese che tra l'altro adesso è rinata, ma era un grandissimo produttore di orologi, la Lippe, introdussero un orologio che più che elettronico dovremmo definire elettromeccanico-elettrico, perché in realtà aveva ancora i ruotismi, solo che la fonte di energia non era la molla, ma era una pila, una pila che faceva muovere un bilanciere. Quindi il bilanciere aveva le sue oscillazioni, ma era mosso da una pila, dalla corrente elettrica generata, contenuta in una pila, e quindi era un orologio elettrico. La corrente elettrica non aumentava la frequenza del bilanciere in realtà, ma rendeva, qualcuno diceva, più costante, l'oscillazione del bilanciere. Sta di fatto che poi grandi miglioramenti di precisione non vi erano in questi calibri, infatti ebbero poco o nulla risonanza. Invece il passaggio decisivo si ebbe nel 1960, quando nacque l'Accutron, cioè il primo orologio che realmente faceva meno del bilanciere, sostituiva il bilanciere con un sistema del tutto diverso, di oscillazione, che utilizzava la corrente elettrica. Vediamo un attimo come ci si arriva, perché in realtà pochi sanno che l'Accutron, fatto da Bulova. Bulova è una casa americana, ma come sappiamo Bulova ha fortissimi, aveva allora fortissimi, come oggi, fortissimi rapporti con la Svizzera. E quindi fu incaricato da Bulova, un orologiaio svizzero, di studiare un sistema elettromeccanico che garantisse effettivamente una maggiore precisione. La cosa che non tutti sanno è che esistono anche delle versioni diverse di questa storia, che dicono invece che fu questo orologiaio svizzero che aveva sviluppato questo sistema e fu snobbato dai costruttori svizzeri troppo tradizionalisti e quindi lui andò a proporlo a Bulova e Bulova invece accettò. Non sapremo mai quale delle due versioni è quella giusta, ma sta di fatto che è un orologiaio svizzero che ha creato l'Accutron. Vediamo come funziona l'Accutron. L'Accutron prevede l'utilizzo di un diapason, che è una sorta di piccola forca, forchetta, a due denti di metallo. È molto piccola e c'è un sistema di elettrocalamite alimentate dalla corrente elettrica che fa in modo che le due estremità della forchetta del diapason vibrino ad elevata frequenza, come minimo a 360 Hz nell'Accutron di Bulova, poi qualcuno come Omega lo portò anche a 720 Hz questa frequenza, però ci veniamo dopo perché in realtà il sistema di Omega differisce in maniera significativa, non solo per la frequenza. 360 Hz è veramente tanto, è veramente tanto. Se pensiamo che l'orologio meccanico con la maggior oscillazione erano quelli a bilanciera 36.000 alternanze orarie, 5 Hz, quindi 360 Hz contro 5 Hz. Una differenza enorme. La cosa veramente singolare di questo meccanismo era che praticamente il diapason, oltre a fungere da organo regolatore oscillante con una frequenza altissima, era anche la sorta di motorino, cioè era quello che effettivamente alimentava il treno degli ingranaggi, perché in realtà le vibrazioni dei due denti, dei due estremi della forchetta, chiamiamola così, venivano trasmesse a una ruota, cioè ogni vibrazione era un dente di una ruota. Allora qui si pone un problema, perché chiedo scusa, oggi va così, perché come sapete per avere una ruota meccanica che registri vibrazioni a quella frequenza, ci vuole una ruota che abbia ben 320 denti e fu realizzata questa ruota con 320 denti, ciascuno dei quali dista dall'altro di un centesimo di millimetro o ho detto un centesimo di un millimetro. E da qui poi mi viene da fare una considerazione. Quando voi leggete delle enormi difficoltà incontrate dai costruttori svizzeri a fare i bilancieri a 36.000 alternanze orarie, poi leggete in realtà già nel 60 Bulova faceva una ruota 320 denti separati uno dall'altro da un centesimo di millimetro, è chiaro che evidentemente era forse meno difficile di quello che si potesse pensare. Ma certo questa ruota con 320 denti era una meraviglia e i denti non li riesce ad osservare ad occhio nudo dal tanto che sono piccoli. Quindi ogni oscillazione, ogni vibrazione dei estremi del diapason viene trasmessa a una ruota che quindi poi mette in moto con le opportune riduzioni con le opportune riduzioni mette in moto tutto il treno del tempo. Quindi abbiamo un orologio che a questo punto inizia ad essere davvero elettronico perché comunque c'è un circuito che deve, come posso dire, tenere assolutamente il più possibile costante queste vibrazioni del diapason azionando quest'elettro calamite, questi elettromagneti. E da qui si capisce che ovviamente l'acutron aveva una grandissima precisione a differenza degli Elgin e Lipp precedenti del 52 ma era costoso da produrre. Era un calibro costoso da produrre di fatto e quindi era una precisione ottenuta ad altro costo. Come diceva Omega più tardi nel 72-73 fece un calibro a diapason con però la frequenza di 720 Hz. E qui non riuscirono a fare una ruota che registrasse le vibrazioni dell'estremità del diapason perché 720 Hz erano davvero troppi. E allora cosa succede? Che qui effettivamente cambia tutto cioè nel senso che non c'è la trasmissione meccanica del è demandata un treno magnetico che non capisco bene come funzioni ne ho trovato delle buone descrizioni di come funzioni ma quindi si è sopperito in questo modo. Va detto che gli acutron sono orologi che sono giunti al giorno d'oggi molto molto bene nel senso che sono orologi che hanno sopportato il tempo e la lunga inattività meglio di tanti quarzi. L'unico problema è che le batterie che li fanno funzionare non ci sono più e ci vuole una modifica per accettare batterie diverse ma sono modifiche che in genere vengono fatte anche se un orologiario di Roma mi disse che si cominciava a far fatica a trovare certi pezzi per effettuare questa trasformazione ma non so dire se sia quanto fosse episodica la situazione. Tornando all'orologio di Omega questa variante da 720 Hz va detto che è una cosa profondamente diversa e assai meno meccanica e tra l'altro non ebbe un grande successo anche perché questi sistemi comunque poiché comunque anche se ridotta mantenevano una grande componente meccanica chiaramente erano sopravvanzati in termini di costo dai quarzi nel 72 73 già i quarzi cominciavano la discesa vertiginosa dei prezzi che poi li porterà a spazzare via tutto quindi teniamo presente questo questo aspetto vediamo alcune foto della Cutron perché è comunque un calibro degno di nota ripeto ripreso anche da altri costruttori ancora oggi ogni tanto vengono prodotti degli Accutron vediamo vediamo alcune immagini ecco qui vediamo lo schema dell'Accutron del calibro Accutron con i suoi componenti e ovviamente in qualche modo se ne desume il suo funzionamento qui vediamo la classica versione la più famosa Space View con l'open deal insomma che mostrava questa fiera o questa tecnologia che effettivamente garantiva una precisione mai vista prima anche se a costo di un uso dell'elettronica abbastanza importante successivamente poi con l'avanzata del quarzo naturalmente la precisione dell'Accutron era messa in discussione soprattutto era messa in discussione il suo elevato costo di produzione per cui la Bulova tentò di creare un AccuQuartz cioè un meccanismo che abbinasse Accutron e tecnologia al quarzo qui la differenza era già sostanziale perché ovviamente in questo tipo di dispositivo il diciamo così il regolatore era comunque un cristallo di quarzo fatto oscillare dalla corrente elettrica con un circuito integrato che ne conta le oscillazioni e naturalmente il diapason in questo caso presente anch'esso non serviva più a regolare la velocità l'isocronismo diciamo così ma serviva in questo caso il diapason proprio come motorino per la trasmissione del moto agli ingranaggi quindi naturalmente questo orologio era comunque costoso e complicato quindi non riuscì ad avere un suo successo commerciale lo citiamo perché va segnalato tra i tentativi che fecero i costruttori per opporsi al quarzo tentativi che furono vanificati dai costi irrisori a cui vennero venduti i quarzi giapponesi dalla metà degli anni settanta che spazzarono via tutto compreso l'industria svizzera in gran parte ora facendo un salto nel tempo vorrei parlarvi di quello che secondo me tra tutti gli ibridi tra tutti gli ibridi è il top assoluto io alcuni mesi fa in un video intervista con Stefano Cecchini nel suo canale l'orologeria è finita io avevo definito il top degli ibridi un calibro di resense di cui mi occuperò anche in questo video e l'avevo definito come il top degli ibridi in realtà ripensandoci no 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 mi sbagliavo assolutamente il top assoluto degli orologi ibridi rimane il raffinatissimo Seiko Spring Drive e anche se so che quasi tutti voi saprete o crederanno di sapere come funziona in realtà io lo voglio spiegare perché anche da vostre domande emerge che in realtà ha incredibilmente sul funzionamento di questo calibro che pure è semplice in sé ma ha richiesto un lavoro enorme per essere sviluppato ci sono molti dubbi e allora vediamo se io riuscirò a sfattarli o come credo non sarò abbastanza bravo per farlo ma insomma anzitutto cominciamo dal nome perché si chiama Spring Drive perché è mosso dalla molla quindi l'energia è immagazzinata nella molla esattamente come un qualsiasi orologio meccanico tradizionale la differenza sta ovviamente nell'organo regolatore perché il bariletto e il treno del bariletto è fatto in modo tale che viene messo in movimento non un bilanciere ma viene messo in movimento una ruota una sorta di volano che ruota in una sola girazione quindi non è il moto le oscillazioni ma ha un moto in una sola direzione e ha una velocità che è superiore rispetto a quella che è necessaria per garantire l'isocronismo all'orologio questo perché? perché questo volano questa ruota che gira velocemente in una direzione ha un altro compito ha il compito come rotore circondata da due statori avvolti con filo di produrre una minima corrente elettrica anche quindi la corrente elettrica la minima quantità di corrente elettrica in realtà è prodotta da un fenomeno fisico della meccanica quindi non è esterna non è una corrente elettrica esterna fornita tramite la pila oppure trasformata dalla luce no è intrinseca al movimento cioè è appunto generata da un fenomeno fisico della meccanica fatta in quel modo quindi si genera questa minima corrente elettrica che alimenta un circuito al quarzo un piccolissimo quarzo che viene fatto oscillare con la solita sua frequenza poi c'è un minimo circuito integrato che confronta le oscillazioni del quarzo isocroniche con la velocità di movimento della ruota e attraverso un freno elettromagnetico la ruota viene frenata viene cioè tenuta con delle frenate che si ripetono no ogni tutto tempo viene tenuta alla velocità ottimale per avere la migliore precisione dell'orologio poi tutto il resto rimane ovviamente meccanico quindi è lo spring light di Seiko è un capolavoro perché è il più meccanico degli orologi controllati da un quarzo di gran lunga non c'è nulla di così meccanico e di tanto meccanico ed è anche il più elettronico degli orologi meccanici per la stessa ragione quindi è veramente straordinario pensate che questo calibro si iniziò a progettarlo nel 77 la Seiko ci vollero 28 anni perché varie esposizioni di prototipi più o meno in stato avanzato ai vari saloni dell'orologeria finché la versione tra virgolette definitiva che poi sempre soggetta a miglioramenti ovviamente viene presentata addirittura nel 2005 e nel 2007 2006 2007 parte la prima vera produzione quindi sono 30 anni praticamente dalle prime idee di sviluppo ed è un connubio di una raffinatezza unica io vi dirò che uno dei primi orologi che comprerò ora mi è tornata voglia di veramente di comprare completamente orologi a pieno regime è proprio un Grand Seiko Sprint Drive perché lo desidero lo desidero sono molto curioso di questa tecnologia e sono convinto che sia assolutamente qualcosa di straordinario vi farò vedere qualche immagine per quello che conta spero di avere chiarito i dubbi su questo calibro mi limiterò a farvi vedere la perla di questi Spring Drive è la versione cronografo con ruota colonna innesto verticale molto bello questo cronografo automatico e vedete qui il freno elettromagnetico che tiene la velocità della ruota vicino il più possibile all'ideale isocronico il livello di precisione raggiunto da questa tecnologia è molto alto perché si parla di una variazione di nelle versioni più sofisticato di qualche secondo l'anno non di più veramente impensabile per un meccanico tradizionale che pure come questo è tutto alimentato dall'energia meccanica emagazzinata in una molla veniamo ora a un altro elettromeccanico che mi interessa molto perché è fatto da June ma che io non riesco ad apprezzare soprattutto per il suo elevato costo allora si tratta del June Elegant allora è il primo orologio e unico orologio di June per donna nel senso che June ha fatto delle varianti femminili di suoi modelli octa soprattutto ma una cassa un orologio spensato solo per donna non l'aveva mai fatto prima e quindi presenta questo Elegant che ha la caratteristica di essere sostanzialmente un orologio al quarzo che però ha delle soluzioni esclusive e ha delle componenti meccaniche di una certa importanza lui lo definisce elettromeccanico io su questa definizione devo essere sincero ho dei dubbi perché per me è più un quarzo che un elettromeccanico perché la parte meccanica è ovviamente demandata alle sfere e soprattutto a un esclusivo rotore che ha sul lato quadrante questo piccolo rotore a vista a cosa serve? serve alla funzione più innovativa di questo orologio questo orologio se usato quotidianamente ha una batteria che dura dieci anni ma in realtà la vera caratteristica esclusiva di questo orologio è che dopo 35 minuti in cui rimane fermo in cui quindi questo rotore non viene messo in movimento dal moto del braccio l'orologio va in stand by cioè nel senso che mentre il processore continua a funzionare le sfere smettono di essere mosse e in questo modo ha una durata in stand by di 18 anni appena lo si riprende in mano e lo si riprende in mano appunto le sfere tornano immediatamente sia in senso orario che in senso anti orario a indicare l'ora esatta come se non fosse mai stato in stand by quindi è una soluzione molto comoda per certi aspetti non è fondamentale quindi io lo definirei un quarzo con soluzioni esclusive perché ha questa modalità stand by alcune componenti meccaniche ha le componenti meccaniche che sono rifinite secondo i criteri di Jurn sono fatti interamente da Jurn ha la componente elettronica del processore che comunque è stata studiata apposta e viene realizzata esclusivamente in Svizzera quindi è assolutamente anche quello un prodotto svizzero ed esclusivo per Jurn e anche delle finiture ovviamente di alto livello vediamo alcune foto vediamo l'Elegant 40 mm con all'ore 4.30 quel rotore che vi dicevo si accorge consente al meccanismo di accorgersi quando è fermo da 35 minuti e qui abbiamo la vista sul calibro che indubbiamente mostra delle finiture da Jurn peccato che questo orologio costi circa 15.000 euro veramente troppo per un quarto anche se esclusivo e poi la cosa assurda è quella misteriosa versione da 48 mm cioè gigantesca che Jurn continua a dire che è da donna ma che una donna secondo me non metterà mai ma forse è stato un tentativo di Jurn non detto di farne uno da uomo una vicenda controversa che avrei evitato lo vediamo non è da donna ma secondo me alla fine non è neanche da uomo insomma è un orologio che avrei lasciato avrei evitato di fare e ora passiamo a un altro ibrido che io trovo veramente interessante e veramente geniale parlo cioè del Ressence Type 2 e Crown allora si tratta di una versione speciale del Ressence in cui tra il modulo del quadrante e la base del calibro meccanico è inserito un modulo elettronico questo modulo elettronico lo rende un ibrido perché il modulo elettronico è collegato è in mezzo alle due componenti e ha però delle caratteristiche tutte sue che vi prego di considerare che secondo me sono particolarmente riuscite comode nell'uso e geniali altitutto tu la parte elettronica potresti anche decidere di non usarla mai cioè non sei obbligato ad usarla se non la usi l'orologio funziona come un normalissimo meccanico in secondo luogo l'energia della parte elettronica è ripresa da celle solari che vengono alimentate da alcune aperture sul quadrante tra l'altro non ho capito se queste aperture addirittura si chiudono quando non è necessaria recuperare la luce questo sinceramente non l'ho capito perché mi sembra che nel primo prototipo questa funzione ci fosse poi forse negli orologi di serie non c'era più però su questo non ho certezze e questa è la sua seconda caratteristica la terza caratteristica è questa che come ogni recense si setta con la levra sul retro non ha la corona si setta con la leva sul retro l'orologio all'ora giusta l'orologio meccanico all'ora giusta dopodiché dando due tappe sul vetro dell'orologio l'ora giusta viene memorizzata a quel punto se tu continui a indossare l'orologio automaticamente l'ora viene mantenuta esatta dal sistema elettronico tra virgolette al quarzo quindi non c'è più bisogno che tu faccia una verifica automaticamente di tanto in tanto il sistema elettronico metapò tiene allora esatta l'orologio e corregge gli errori del meccanico ma non è finita qui perché poi il sistema è in grado di accorgersi se l'orologio non viene indossato da più di 12 ore in questo caso entra in una funzione a basso consumo di energia in cui praticamente viene bloccato il bariletto quindi anche l'orologio meccanico si ferma oltre che ovviamente quello elettronico ma quando uno poi lo rindossa anche dopo tre mesi è in grado semplicemente con un doppio tocco sul vetro di ripristinarlo all'orario esatto corrente quindi anche da questo punto di vista è assolutamente comodo e straordinario vediamo qualche immagine l'orologio è anche un GMT quindi indica un secondo fuso orario tappando sul vetro potete vedere le aperture che servono per far entrare luce solare il suo difetto è che è un po' di grandi dimensioni e costa sensibilmente di più degli altri recens però anche se non sappiamo molto di come funzionano di come sono legate la parte meccanica e l'elettronica devo però dire che è geniale nel suo funzionamento vi ho già detto di Urwerk Urwerk con i suoi MC1 e MC2 per me non sono ibridi perché hanno dentro la cassa una parte elettronica ma è totalmente scollegata dal calibro quindi per me in quei due casi è scorretto parlare di ibrido o poi vi sono altri cosiddetti ibridi che in realtà hanno una base al quarzo e hanno una componente cronografica meccanica non sono orologi di grande valore non ci sono soluzioni tecniche particolari sono prodotti e sono stati prodotti da più case non ritengo di doverne trattare o di fare un approfondimento specifico almeno non me lo chiediate voi ecco io credo di aver un po' esaurito questo argomento sui ibridi che è un argomento affascinante che mi aspetto avrà altre applicazioni a breve lo spero e con questo augurandovi di nuovo buon anno ringraziandovi per essere ancora presenti e per avere la pazienza di vedere i miei video vi invito per chi non l'avesse fatto ad iscriversi a mettere like se ovviamente vi è piaciuto e al prossimo video vi è piaciuto vi è piaciuto che non l'avesse fatto vi è piaciuto